giunti in leggero ritardo a causa di un disguido gli alpini di vodo di cadore sezione cadore hanno trovato ad accoglierli l'assessore greguolo e tanti amici lagunari molti dei quali erano presenti anche al primo incontro che si era svolto a vodo a fare da mediatore l'ex vice sindaco lucio gianni ora detto stampa dei lagunari alta sezione di chioggia e ad aprire i saluti il presidente di asso arma il capitano dei rabinieri ora in congedo giovanni liacci il presidente dei lagunari sergio tonello in un preambolo ha sottolineato la stima nei confronti degli alpini il rispetto per la loro tradizione e ha ricordato quanti caduti nell'una e nell'altra arma in tutte le armi ci sono state durante le guerre gente dalle dolomiti e gente della laguna veneta unite sotto la stessa bandiera del veneto ha definito il gemellaggio tra le due realtà e commosso ha ricordato l'incontro di 25 anni fa 26 per l'esattezza definendolo indimenticabile attorniate dalla popolazione festante massimo colossi presidente del gruppo di vodo ha sottolineato l'amicizia che laghe due gruppi 25 anni fa quando ci fu gemellaggio non poteva essere presente stava svolgendo il servizio militare ma ha ricordato lo spirito di amicizia e collaborazione che laghe due gruppi che nonostante provengano da due ambienti diversi montagna e mare sono uniti dai medesimi principi per l'amministrazione di vodo era presente il sindaco domenico belfi giovane sindaco all'epoca del gemellaggio nel 1998 belfi è ringraziato per l'ospitalità e ammirato ha parlato del municipio di chioggia e della sala consigliare dove era già stato e che potrebbe contenere l'intero municipio di vodo come ha detto scherzando l'unione delle due comunità simboleggiano un abbraccio ideale che racchiude tutte le genti del veneto e che potrebbe racchiudere tutte le genti d'italia ha affermato solare ha definito la comunità di vodo già accolta l'assessore griguolo alla quale ha promesso porte sempre aperte un evento molto importante la riunione che si è tenuta oggi dopo 26 anni ricca di amicizia e lo scambio simbolico di doni ha visto passare di mano la rappresentazione delle vele dei bragozzi di un tempo e una pergamena simbolica rappresentante il monte pelmo caro agli alpini e caro a chi ha dato vita a questo rapporto di amicizia oscar colussi il quale fu anima del gruppo degli alpini e della sua città dai lagunari è stato ricordato col dono di una pergamena un dono molto apprezzato in modo sentito da tutto il gruppo e dal sindaco ritirato dal nipote l'attuale presidente del gruppo degli alpini i doni porti dal sindaco di vodo al comune di chioggia sono stati due libri simbolici e di valore una prima pubblicazione di una raccolta di articoli scritti da redattori ed ex redattori del gazzettino fondato da giampietro talamini originario proprio di vodo e un secondo libro imperniato sull'evento del primo conflitto mondiale che ha segnato il destino della comunità dando via l'importante fenomeno dell'emigrazione dalla città l'incontro è proseguito poi con un giro nella città di chioggia con un rancio in un locale chioggiotto il video completo dell'incontro è sul canale youtube di chioggia azzurra da oltre 50 anni zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta zambonin un nome una garanzia via padre emilio venturini chioggia venezia